I nerostellati Pratola si rinforzano con l'attaccante Federico Sablone, classe 96, proveniente dalla Miteronina. A renderlo noto l'ha detto stampa Andrea Di Meo, subito dopo la firma del giocatore con il club pratolano, avvenuta grazie ai contatti presi dal direttore sportivo Roberto Pantaleo. Dopo quello di Safon si tratta di un altro rinforzo di qualità, che va ad integrare l'organico a disposizione del tecnico Matteo Di Marzio. Federico Sablone, nativo di Popoli, è cresciuto nell'Arabona Manopello e nella Cedas Fiat Sulmona. Ha militato in eccellenza con il Sulmona nel 2011-2012, realizzando sei reti, sfiorando la Serie D e ricevendo il premio Quale miglior giovane abruzzese della categoria. Nella stessa stagione, con la Juniores di Biancorossi, ha messo a segno 18 reti. E poi è andato alla Virtus Lanciano, dove ha giocato con gli allievi e la Berretti. Federico Sablone è a disposizione per la trasferta dei Nerostellati di domenica prossima controguerra.